Allora, oggi abbiamo spiegato un occhio particolare, l'occhio con la palpebra leggermente cadente. Cosa abbiamo fatto? L'occhio con la palpebra cadente è quell'occhio che ha una palpebra prominente, la palpebra superiore rispetto alla palpebra mobile, per cui abbiamo lavorato su un'ombreggiatura che fa nascondere appunto questa prominenza dell'occhio. Le ragazze adesso sono l'opera e stanno provando sulle loro modelle il lavoro che abbiamo spiegato. Quindi ognuna di loro poi cambierà e proveranno tutte. Allora, allora, il tuo consumo è un calco, il pennello sbagliato, perché è un menello. No, non saprò vedere. Sì, quello che ho visto è un calco.